CacheCleanerNG è l'applicazione per dispositivi con privilegi di root in grado di liberare la cache nel proprio dispositivo, precisamente sia la memoria interna che quella della memoria SD. Una volta aperta compare subito una serie di istruzioni in lista, la prima è l'operazione di svuota cache, la seconda crea un collegamento sulla schermata solo dedicata all'operazione di svuotamento della cache, quindi non dovete riaprire l'applicazione e vedere tutte queste voci, la possibilità di fare una donazione allo sviluppatore, la possibilità di scegliere le applicazioni di cui andare a svuotare la cache per risparmiare tempo, se mostrare le notifiche al termine dello svuotamento, quanto fare il timer automatico, se avviarla in automatico, punto, se usare il vecchio metodo, perché con l'aggiornamento l'applicazione ha cambiato funzionalità, però come dice la descrizione appena sotto è più veloce e rimuove più file, ma non può escludere alcune applicazioni oppure fornire statistiche precise nello svuotamento, poi se pulire anche la memoria nella schedina sd oppure nella memoria interna, le statistiche che andiamo subito a vedere e infine le info sull'applicazione, che è il classico about, che mostra tutti i credits, precisamente dalle traduzioni in varie lingue. andiamo a vedere le statistiche, e compaiono per ciascuna applicazione in lista quanta memoria che è stata liberata sia sulla sd che nella memoria interna, si può scorrere anche dalla linguetta sul lato destro, come con la rubrica, e sono ordinate in ordine crescente. dal più basso al più alto. Esiste anche una versione legacy, sviluppata dallo stesso dev, ma secondo me la versione ng è decisamente migliore. CacheCleaner ng per dispositivi rotati da Android A.